Si chiama Avi Mond ed è una bellissima nonché meravigliosa modella israeliana che prende parte alla nuova campagna pubblicitaria creata dalla Pantenne, questo gruppo molto famoso che si occupa di realizzare tra le altre cose anche il shampoo o comunque i prodotti per lavarsi, per lavare i capelli, lanciando un nuovo prodotto. Il nuovo brand, dunque il brand che tutti conosciamo, vede dunque come nuova sua rappresentante la bella Avi Mond, una donna che non se la tira, molto bella, affascinante, sexy, che di certo non passa inosservata. Diversi rumors ci sono sul web a proposito di questa donna che presta il suo corpo o meglio il suo volto a Pantenne, a 40 anni di età, una lunga carriera nel mondo della moda e dello stilismo, ha lavorato con brand importanti nel carico di Ralph Lauren, Calvin Klein, East, Saint Laurent, French Connection, solo per citarne alcuni. È una bellezza florida, pulita, semplice ma al tempo stesso un'artefatta, bionda, patinata, uno stile molto raffinato e proprio Pantenne cercava nuovi volti a trovare la bella Avi, che di certo non passa inosservata. Bene, iscrivetevi, commentate, ciao a tutti, una buona giornata a voi e complimenti a Avi Mond. Grazie a tutti.